Eccoci qua, una buona giornata da Giuseppe De Vitti, stamici di Rete 7. Potremmo dire estate, lavori in corso. Anzi, probabilmente i lavori si sono anche bloccati. Forse l'estate sta attendendo il decreto, gli incentivi, le detrazioni. E a parte le battute, effettivamente si è un po' bloccata l'estate. Si è un po' bloccata, anche lunedì avremo qualche disturbo, anche se si tratterà per lo più, quantomeno sul nostro territorio, di nuvole quasi sempre innocue. E aperture del cielo saranno più convinte, questa volta proprio sul Piemonte, a parte anche sulla Liguria, sulla Val d'Aosta, qualche acquazzoncino pomeridiano ci potrà essere ancora in prima serata. Vedete le zone alpine, localmente sulle prealpi. Però, insomma, tutto sommato, anche se con delle nuvole, è una situazione abbastanza tranquilla in questo dio di settimana. Estate, lavori in corso però. Non decolla, non decolla e non decollerà nemmeno nei prossimi giorni. Rimani in attesa del decreto. Guardate le temperature. Minime, stazionarie, anche le massime, vedete, comunque saranno piacevoli. Estive, ma senza eccessi, tra i 25 e i 30 gradi. Per il momento, cari amici di Retta 7, è tutto. Buon proseguimento di giornata e buon lunedì. Noi ci riaggiorniamo presto.